La Legano propone una proposta di legge, una proposta di legge che prevede la castrazione chimica. Riteniamo che nel momento in cui una persona compie uno stupro, uno irresponsabile, una persona ingiudicabile, compie uno stupro, compie un atto contro la dignità di una donna, debba punire, debba essere punito e debba pagare per questo reato. Non siamo più soddisfatti a parlare solamente di pena o di mesi o qualche anno di carcere. Riteniamo che in questi casi bisogna intervenire in modo serio e in modo determinato e di conseguenza, come fanno tanti altri stati nel mondo, l'utilizzo della castrazione chimica riteniamo che sia l'unico mezzo per poter fermare questa ondata di stupri e di violenze perché purtroppo non è solamente più un caso isolato ma sta diventando sempre più all'ordine del giorno. Pene certe, pene decise e finalmente grazie a questa proposta di legge presentata dal sottoscritto al Senato e dall'On. Molteni alla Camera, delle pene che possano anche permettere in futuro alle donne di poter girare tranquille nelle nostre città. Grazie. Grazie.